Sul discorso poi degli evasori, io sono dell'idea che alla fine è vero che siamo un po' tutti evasori, perché anche le persone intervistate mi piacerebbe andare a chiedere al di là delle telecamere se quando gli scontrini li fanno tutti, se quando vanno dal libero professionista si vanno a fare la fattura, perché anche quelle sono evasioni. Non è solamente il ricone di turno che prende i capitali e li porta all'estero, sui capitali all'estero o su chi fa un po' il furbetto a me piacerebbe un maggiore rigore. Mi spiego meglio, nel momento in cui trovi il furbetto che fa il motociclista, lo sportivo, il tennista, Tizio, Caio e Sempronio e trovi che questi qua evadono 26 milioni di Euro e gli fai lo sconto… Devo tornare un attimo da Zanetti e ho capito che devo…